è stata la guerra madia mi ha raccontato che è stata brutta e non volevo vederla più quando la conoscite mi sembrava una brava bambina aveva bisogno di un'amica ero in Libano cos'è la guerra e dopo sono venuta in Italia ho lasciato le mie amiche in Libano e sono molto triste a noi sono molto divertente ma è difficile ma è difficile ma è difficile è difficile ma è difficile è meglio per l'Ambon c'è un'amica c'è un'amica tutto ciò che non mi piace non mi piace molto anche ora mi piace molto Grazie a tutti.